Finisce 2-0 il match tra Comprensorio Montalto e Due Torri, padroni di casa che conquistano l'intera posta in palio nonostante una inferiorità numerica grazie a una ottima prestazione. È al ventesimo del primo tempo che Gassamar regala il vantaggio alla squadra di Petrucci nonostante l'inferiorità numerica decretata al quindicesimo della prima frazione di gioco per l'espulsione di Mazzei per doppia munizione. Al diciottesimo del secondo tempo seguirà poi quella di Catalano. Il Comprensorio Montalto è destinato dunque a restare in 9 uomini ma continuerà a condurre il match non solo. Arriverà anche il raddoppio sul calcio di rigore al trentaseiesimo del primo tempo con Zangaro per un brutto fallo su Piemontese. Insomma è successo di tutto al dimagro tra espulsioni contando anche quella della squadra ospite ai danni di Alizia al trentesimo della ripresa e settiamo uniti e scontri due in cui però i padroni di casa l'hanno spuntata. Il Montalto torna dunque alla vittoria. Il Due Torri sperava in un ritorno nel risultato positivo vista la situazione di classifica non proprio tranquilla ed è arrivato in campo calabro con l'intento di fare punti. Il Montalto cercava dalla sua la vittoria da troppo tempo e non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di una partita casalinga e sulla carta facile.